scusami se l'interrompo parlavo con gli altri c'è un problema gli utenti sull'app stanno diminuendo ma da uomau ma vau in che senso quando abbiamo un app mobile è molto importante tenere d'occhio alcune metriche di retention e engagement per capire quanto frequentemente il prodotto servizio è utilizzato dai nostri utenti il dao vao e mao oltre ad essere acronimi abbastanza simpatici sono alcune delle più importanti metriche per definire il numero di utenti attivi andiamo a vedere cosa significa ognuno di questi acronimi e perché queste metriche sono importanti nel mobile marketing dao d a u significa daily active users e rappresenta il numero di utenti unici che hanno aperto l'applicazione in un determinato giorno il vao w a u significa weekly active users e rappresenta il numero di utenti unici che hanno aperto l'applicazione durante una settimana infine il mao mao come potete immaginare significa monthly active users e rappresenta il numero di utenti unici che hanno aperto l'applicazione durante gli ultimi 30 giorni perché il dao mao e vao sono così importanti quando si ha un'applicazione mobile queste metriche di engagement sono importanti per stabilire se stai offrendo un prodotto interessante in base all'uso che ne fanno gli utenti inoltre un'analisi approfondita di queste metriche separata per ogni canale di acquisizione o specifico targeting riesce a dare una precisa overview di quali siano le campagne di user acquisition che portano utenti migliori in termini di engagement e retention in definitiva il numero degli utenti attivi fornisce un indicatore generale sullo stato di salute del vostro prodotto o servizio e costituisce la base per calcolare altre metriche importanti che danno più informazioni sul successo del vostro business come ad esempio le tv o lifetime value ti è piaciuto il nostro video iscriviti al canale youtube se hai delle domande postale qui sotto ti risponderemo appena possibile ne vuoi sapere di più di mobile marketing iscriviti alla nostra newsletter e non dimenticarti che abbiamo anche dei canali social ciao 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 Grazie a tutti.